che cosa si si sta proprio bella che bello guarda ma guarda la zucchina quanta figli ma le mandorle le posso fare? le mandorle le posso fare? o ti servono? oh che bello ii sono bello c'è una cosa bella adatta quando lo schiacci sennò tutto si scrapagna si è vero io lo tengo a parte lo schiaccianoce ma il picco è più largo e lo schiaccianoce quanto è bello si è vero si è vero si è vero è vero lo schiacciano